Allora, adesso diamo la parola al leader del Partito Popolare per la Libertà e la Democrazia e dal 2006 del Party for their Freiheit, spero di aver detto correttamente, Gert Wilders. Buongiorno, Palania. Grazie, cari amici, per avermi invitato in Padania quest'oggi. I am so proud to be here at your conference and to pay my respect not only to Lega Nord, but to Roberto Maroni, my friend, and also your new leader, Matteo Salvini. E con orgoglio che sono qui quest'oggi al vostro congresso a esprimere il mio rispetto nei confronti della Lega Nord, ma anche nei confronti di Roberto Maroni, mio amico, e del nuovo segretario Matteo Salvini. Il prossimo anno, il 2014, sarà un anno di portata storica. A maggio ci saranno le elezioni europee e insieme dobbiamo combattere il monstro europeo non democratico. As a matter of fact, we are fighting the same fight. Lega Nord is fighting for an independent Padania, but Holland, Germany, France are all fighting to get and to become independent from Brussels. Noi in effetti lottiamo la stessa lotta. La Lega Nord lotta per una padana indipendente, ma anche i Paesi Bassi, Germania, Francia, lottano per diventare indipendenti da Bruxelles. In Europa siamo tutti Lega Nord. And my friends, my friends, the European Union has failed. The Euro has failed. Amici, l'Unione Europea ha fallito. L'euro ha fallito. Abbiamo pagato miliardi di euro per il Sud. E ormai abbiamo perso il controllo sui nostri soldi, sui nostri confini, sulle nostre leggi, sui nostri bilanci e sull'immigrazione. Ma sono qui a Torino, cari amici, per darvi una buona notizia. Al prossimo maggio i popoli dei nostri Paesi, dei Paesi europei, diranno basta, basta. And we are. We are proud on who we are. We are proud on our identity. We are proud on our culture. And ladies and gentlemen, never be ashamed to say that you are proud to be member of a culture that is based on Judeo-Christianity and not on Islam. Noi siamo orgogliosi di chi siamo. Siamo orgogliosi della nostra identità, orgogliosi della nostra cultura. E signore e signori, non abbiate mai vergogna, non abbiate mai paura di dire con orgoglio che provenite da una tradizione giudeo-cristiana, non islamica. My message to you is very clear. I say no more Islam, no more Sharia, no more mosques, no more nothing. Il mio messaggio è molto chiaro. Basta Islam, basta Sharia, basta moschea. And let us, let us work together. Together with other democratic parties, we have to make a stand against that monster in Brussels. democratic parties all over Europe. My friends from the Lega Nord, from Flanders, from Austria, from France, but also from many other countries in Europe, from the United Kingdom to Denmark to Sweden. I hope as many parties as possible will join to fight for the sovereignty of Pagdania, for Holland, for France and all the other countries. Lavoriamo insieme noi tutti partiti democratici per combattere contro il mostro di Bruxelles, in tutta l'Europa, qua in Padania, Lega Nord, ma anche in Austria, in Francia, nelle Fiandre, ma nel Regno Unito, nella Danimarca, in Svezia, mi auguro in più paesi possibili. Lavoriamo insieme, combattiamo insieme per ritrovare la sovranità in tutti i nostri territori, in tutti i nostri paesi. Diciamo sì alla tradizioni, alle nostre libertà, alle nostre libertà, alle nostre sovranità. E un paese può essere visto come sovranità quando è in charge di sua propria politica emigrata, di sua propria fronte, la più importante di tutto, nel concetto della sovranità. Diciamo sì alla tradizione, diciamo sì alla libertà e sì alla sovranità. E la sovranità si ha soprattutto quando un paese ha di nuovo in mano il potere decisionale in merito alle politiche dell'immigrazione. Questo è fondamentale per riavere la nostra sovranità. And you know who is in charge of immigration of our countries today. Today there is a European Commissioner called Mrs. Malmström, a hippie from Sweden. Mrs. Malmström, nobody knows her. Nobody elected her. She is a high paid bureaucrat from Brussels and she tells us what to do. Lo sapete chi è responsabile oggi delle politiche sull'immigrazione? Beh, è una commissaria europea, una signora di nome Malmström, una hippie svedese, che nessuno conosce, nessuno ha votato, nessuno ha eletto, ed è una burocrate europea pagata per decidere le nostre leggi sull'immigrazione. And, very important, we are not longer afraid. The people are no longer afraid. We are not extremists. We are no xenophobes. We are no racist. We are patriotic people who want to fight for our own identity. E questa è una cosa importante. Non abbiamo più paura, la gente non ha più paura. Noi non siamo estremisti, non siamo xenofobi, non siamo razzisti. Siamo patrioti che lottano per la propria identità. So, as our people, as our voters, we love our country, as you love Badania. We want to protect our identity. We want to protect our civilization. And last but not least, we want to stop the islamization of Europe. Come la nostra gente, come coloro che ci votano, noi amiamo i nostri paesi, come voi amate la Badania. E vogliamo dunque proteggere la nostra identità, la nostra civiltà e soprattutto mettere un freno all'islamizzazione dell'Europa. So, my friends, be brave. Be brave, do your duty, and help us. Let us work together to liberate Europe in 2014. Viva Lega Nord, viva Badania, viva Hollanda. Thank you so much. E dunque, cari amici, siate forti, siate coraggiosi. Lavoriamo insieme, uniamo le nostre forze per liberare insieme l'Europa nel 2014. Viva la Lega Nord, viva la Padania, viva l'Olanda. Grazie.